Wahey Kooj, ben ritornati da vostro androle in questo nuovo ed ultimo purtroppo episodio di Nazma Eleven Ogre all'attacco Oggi ci aspetta una sfida particolare contro la Ogre Academy che si trova nelle fogne Dice che è un sottopassaggio ma in realtà sono delle fogne Ok, entriamo qui, abbiamo preso la chiave dalla casa di Canon nell'ultimo episodio C'è giusto pochissima strada da fare, ecco, è giusto andare dall'altra parte Ma prima qui ci sono due oggetti molto, molto importanti Eccolo qua, il tiro è Cannonata Rovente che è la tecnica peculiare di Canon E Mano Omega Non so se è più forte della Parata Suprema perché comunque sia Sì, dovrebbe essere in teoria più forte della Parata Suprema Però dopo dipende dai livelli in cui ce l'hai Bash Lancer e i suoi uomini combattono per una nobile causa Credono che il dovere di ogni soldato sia di essere forte E vabbè, contenti voi Poi, qui si va avanti Vediamo un po' che ci dice lui C'è un bottone giro da quella parte che non dovete assolutamente toccare, è chiaro E allora, se tu mi dici di non toccarlo Pemme te La prima cosa che faccio è andare a toccarlo, no? Ovviamente Mark non ci capisce nulla Mark, complimenti a te E ora proseguiamo allora È il suono di una porta che si apre Che suono fa una porta che si apre Bene, entriamo qui che dovrebbe essere... Eccoci Wow Vediamo un po' c'è qualcosa qui, no? Qui giù? Sembra che non ci sia molto da vedere da quella parte In realtà non è programmata l'area Non è che non c'è molto da vedere Non è programmata proprio Se andiamo c'è solo il nero Ah, ecco Siamo arrivati Però come sempre Prima Un attimo in ricognizione Perché dovrebbe esserci uno strumento qui Eh, invece no Eccola Stava all'inizio Ah, fascia invincibile Buono, buono Però 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 Vuol dire, Tandre Link Ma allora Hai allenato tantissimo la tua squadra Sei a un livello magistrale E invece no No, ho giocato pochissimo In Razume Levenogre Ho avuto tantissima altra roba da fare Quindi il team è un po' quello che è Quindi insomma Si fa Anche perché ti danno canon ora Mo lo faccio vedere bene bene Ah, Mark Evans Ti stavamo aspettando Bash Lascia subito andare canon Se fossi in te non mi preoccuperei tanto per lui Hai altro da cui pensare ora Eccoli Ma questi sono militari Non è logore Da dove sono sbocati? L'esercito è circondato allo stadio Non avete alcuna possibilità di fuga Siete arrivati a capolinea Che facciamo? Bisnanno Ma allora è libero Poteva anche tornare nel nostro tempo allora Canon, stai bene? Ah, perché ha perso l'apparecchio Vabbè La professor Killard se ne faceva fare un altro È riuscito a liberarsi Ma come ha fatto? Bisnanno Scusami per tutto questo fastidio Professor Killard ha chiamato i nostri alleati per venire a liberarmi La cosa è semplice Poteva farsi liberare Poi tornare indietro nel tempo A un giorno prima che venisse catturato E venirci a parlare Ok, Killard sta affrontando l'esercito fuori dallo stadio Insieme ai suoi uomini Tutti amano il calcio Tutti gli uomini che avete voi E sono venuti qui per questo Vogliono aiutarti Bisnonno E Mark se la piange Mark, stai piangendo? Non riesco a farne a me donelli Tutta questa gente che viene ad aiutarci per l'amore del calcio È meraviglioso Ed è grazie a te Bisnonno I successi che hai ottenuto nel tuo tempo Ci hanno fatto capire quanto possa essere bello questo sport Le cose che hai fatto ci hanno ispirato Le tue gesto saranno state l'esempio per tutti noi qui nel futuro Le mie gesta? Wow Esatto Ecco perché sono tutti venuti a salvarci dall'ogre La marmaglia che avete ragionato non riuscire a me a sconfiggerci La nostra vittoria è inevitabile Ci siamo sottoposti ad allenamenti intensivi E ora siamo più forti di prima Preparatevi ad affrontare l'absoluto ogre L'absoluto ogre? Una squadra ancora più forte? Absolute ogre È il tempo di dare inizio alla terza fase della missione Terza e ultima fase anche direi Preparati ad affrontare l'absoluto ogre Dunque in realtà sto registrando questa parte Dopo aver registrato la prima parte che avete visto appunto poco fa E devo dire un paio di cosette Ma veloci veloci Su Instagram ho pubblicato appunto degli aggiornamenti diciamo Di io che facevo delle prove contro la Ogre Academy Per riuscire a batterla E praticamente Sembra che io ce la stia facendo Ma non lo so Con Axel non segnavo Mentre con gli altri che hanno Una potenza di tiro inferiore ad Axel Sì Quindi se avete visto appunto su Instagram Oggi fino a Il tempo fino a domani Fino alle Undice e mezzo di domani Per vedere gli aggiornamenti Di questo gioco ovviamente E Potete farlo perché sono sulle stories Che comunque si arrestano lì solo per un giorno Ma nulla di che Giusto per farvi sapere quanto è rotto questo gioco Perché è una cosa improponibile Andiamo un attimo a vedere la squadra Lusi a far livello 78 Con alta tensione livello 3 Ho segnato con Pinguini imperatore numero 2 Versione 3 di Sanford Che non ha chissà quanto tiro Però è fortino Vabbè Però lo dite ma Come fai a segnare? Non lo so manco io ragazzi Con Zabieco scarica stellare pure Ma Non lo so Poi abbiamo lui Che mi fa non paura Quelli che mi fanno veramente paura sono Lui E lui Sono Fortissimi ragazzi Davvero davvero forti Bash che sta al 98 Non mi fa paura La tecnica triangolo micidiale È forte Quella È davvero forte Però Triangolo micidiale Rovesciata micidiale Vabbè dai Fanno come si parla loro Cioè hanno livelli assurdi ragazzi Non lo so Poi i fratelli più e meno Sono Sempre in difesa Indietreggiano pure Però ragazzi Si possono superare Non è infattibile Non è infattibile la cosa È molto fattibile A rigor di logica Se prima ho segnato Anche adesso Ho segnato contro alta tensione Livello 3 Livello 3 Livello Non versione Livello E alta tensione A rigor di logica Qualsiasi altra mossa Lui userebbe Ora dovrei segnare Non ci posso credere Non ci posso credere io È È impossibile Come è possibile Una cosa del genere Vi chiederete voi Non lo so Non lo so Ragazzi La ogre Alla fine Vuoi vedere che non è tutto quanto Sto granché I livelli Sono solo un numero Però attenzione Attacco 91 Attacco 130 Con Lui con Lui con La tecnica Quella del martello Che insacca la mano Nel pallone Come si chiama Non mi ricordo Manco come si chiama Quella che mette La mano nel pallone Praticamente è evoluzione 1 Con Axel Livello 65 Attacco 130 Con Fiammata tripla Livello 5 Non gli ho fatto gol Io Rimango basito Non Non mi spiego Come Come siano possibili Alcune cose E si Contrasti Vinciamo e perdiamo Comunque sia A volte vinco A volte li perdo La cosa peggiore È che possono Farmi gol Anche se ho la mano omega Perché non Non ho Non ho allenata La mano omega è ancora A livello base L'ho usata diverse volte Ma non è ancora Arrivata a livello 2 E ho detto Facciamo una prova Contro gli ogre Proviamo a sconfiggerli E Stava Andando bene Ecco Vedi L'ho bloccati ora È fattibilissima Sta cosa È molto Fattibile Perché Se vi danno Canon Al 45 Dicono Ok Non è che possiamo Dargli un giocatore A livello 60 Che Sarebbe Un po' Assurda La cosa Va bene Posso capirlo Eccolo qua Ora Sempre come prima Attenzione Ho Sia meteora Che aurora Potenziata A livello 3 La versione 3 Scarica stellare No Prima gli ho fatto gol Contro gabbia elettrica Dipende cosa usa ora Tutto da quello dipende Vediamo Alta tensione Potrebbe pararla No potrebbe Eh Vabbè Grazie Alta tensione Insomma Non è che Voglio dire Campo micidiale Vabbè Forte campo micidiale Una tecnica combinata Davvero forte Vediamo un po' Non gli ho dato niente L'altro giorno Gli ho dato le Tecniche Non ce l'ha Per fermarla No però Per superare Sì ce l'ha Vabbè Allora E perché Lo uso pochissimo Comunque sia In partita È molto difficile Che mi arrivi La palla Oltre centro campo Succede Contro le squadre Di livello 80 Con cui mi sono allenato Pronto per Per la sfida Contro gli ogre Ma Buona Molto buona Molto buona Drago glaciale Con Sean Frost Lui è albero Drago alato È albero Foresta Più che albero Foresta E quindi Riceve un potenziamento Bonus Quindi preferisco Fare questo Piuttosto che Drago glaciale Perché qui Non funziona Come in Strikers 2013 O Strikers In generale Che Eccolo Il secondo Che praticamente Tutti i giocatori Combinati Da quello Che dicono Aumenta La potenza Praticamente Viene sommata Tutta la potenza Singola Dei giocatori Non lo so Perché Non ho fatto Go alla Silvia Con Grande Chaos Che I giocatori Erano belli Potenti Tutti con Attacco B Silvia Con Con Mano Insuperabile La parata Il legame Era a 100 Tutti e tre Quindi non lo so Mi pare un po' Strano Eh però Però Non lo so Gli esperti Se siete voi Io a Strikers Non ci ho giocato Non l'ho mai Approfondito Come in Azum 11 Quindi Non lo so Non lo so Non vi so dire Ci riproviamo Ci riproviamo Quanto ci manca Per il primo tempo Potrei fare un tempo Accelerato Per finire prima No Oramai siamo Gli sgocci del primo La uso Sul secondo tempo Vai Così Distruggiamola Ogre Ragazzi Distruggiamola Posso permettermi Anche di subire Due gol Ma non li devo Subire Anche un solo gol Potrebbe significare La sconfitta Per me Dai ragazzi Finito il primo tempo Ottimo Ottimo Ma ci dovrebbe essere Un dialogo Ma che mi succede Non mi sono mai sentito Così prima d'ora Non sarà mica Che io stai cominciando A divertirmi A giocare a calcio Sono caduto vittima Del suo sortileggio Com'è possibile Capitano che ti succede Il secondo tempo Sta per cominciare Lo so Ogri Ai vostri posti Cosa facciamo bisnonno Usano tecniche speciali Senza stancarsi per niente Sono molto più forti di prima Ma non ci sconfiggeranno Non accadrà mai Speriamolo Speriamolo Perché dobbiamo vincere Per il bene del calcio E dell'intera umanità Ricaricherei Sanfordino Axel Ha ancora Tecnica Per una fiammata tripla David Sta giù Saviè sta bene Arley Ok Niente Dal limite Vediamo dopo Vediamo Tempo accelerato Non me lo bloccate Per favore Non me lo bloccate Non me lo blocca Guardate Che cavolo Che vi costa Che diavolo vi costa Farlo dopo No Devono bloccare tutti i costi Certe volte il computer Sfarfalla Ma Sì sono molto veloci Ora in effetti Ballina difensiva A modo rifaccio Ci riprovo Tempo accelerato E' molto utile Quando volete finire Una partita in fretta Dura pochissimo L'effetto Però quel poco che dura Davvero vi da una mano A finire prima la partita Perfetto Porca putt Sono sbagliato I miss click Maledetti Le tempi di diamante Che non succedeva Sta cosa Le tempi di pokemon diamante Grande gioco Dai ragazzi Su Scatto infocato Ora me lo sapete Che vi supero Dai Tempo Tempo Accelerato Oh e mo' non ce l'avete Più eh Che vi pozza Chiappana Cacarella E dai E dai però Quando te le tira fuori Te le tira fuori Accidenti Poi la Al limite La cacarella Oh Ripulisce un po' L'intestino Mala che va Vorrei provare a fare Un altro gol Un altro tempo Accelerato Vai Voglio finirla in fretta Sta cosa Poi non ce l'ho più Però deve finire in fretta Sta cosa Attacco volante Grande Shinkuma Sto facendo un po' Di partite a strikers 2013 Per prenderci confidenza E ora sto giocando Molto meglio Sto provando Trovando varie tecniche Varie cose Quindi insomma Vedrete un altro link Nuovo su strikers Devo ammettere Che il primo strikers Quello sul canale Primo che ho portato L'ho giocato Tanto per giocarlo Non ci ho messo La passione Invece questo strikers Sarà molto diversa Ho visto come si Giocano con gli spiriti Guerrieri I miximax Ho fatto i miximax Di Ciao ciao Con Con zanark Molto interessante La cosa Però Questa partita Ancora non è Conclusa Ragazzi Ok Dai che ci sei Dai che ci Preferivo Ah va bene Va bene Se poi vinciamo Va bene comunque Perché comunque sia Stoutberg Ha Quella che gli fa usare Più punti Tecnica Però la tecnica Alla fine Risulta più forte Non è che rimane Lì Debole Quindi è una cosa Buonissima Ok Ancora un tiro Proviamo a fare Il quarto gol Andiamo in Furore Eh ce l'ho Dai Voglio farlo Voglio provarci con Aurora Che è una tecnica Bellissima Non mi interessa Se poi alla fine Non è potenziata ancora Scarica stellare Però questa Devo farla Assolutamente Non ce la fa No ragazzi Alla fine Axel Qui non ha fatto nulla La ogre E' solo numeri Mi ricordo Che l'ho battuta Con i livelli 50 55 Massimo Quando giocavo Quando giocavo La prima volta Quindi non E' fattibile E' fattibile Pallone malefico Eh già Un diavoletto E' diventato Ma è finita Ragazzi E' finita E' finita La ogre E' stata sconfitta Per 4-0 La ogre Redax In giapponese Adesso vi è chiaro Ciò di cui siamo capaci Cosa Come può essere Non posso perdere E invece si Per ben 4-0 Uh Scarpini ogre Divisa ogre Vecchia spilla Guardate i livelli Guardate i livelli E quelli che vedete Gli ultimi 5 Sì Gli ultimi 5 Sono sempre stati in panchina Non li ho mai usati Durante le partite di allenamento Mai usati E allora Che ve ne pare La nostra missione è fallita Ascolta Bash E' stata davvero Una bella partita E credo che grazie a voi Abbiamo migliorato Il nostro gioco Alleniamoci ancora Così potremo Incontrarci di nuovo E fare un'altra partita Insieme Non può essere Che sei davvero Riuscita a incantare Anche noi Con il suo amore Per il calcio Ora che la partita è finita Siamo tutti amici Vero? E' così che funziona Nel calcio No Esatto Non funziona così Credimi E' questo modo di pensare Che ha corrotto l'umanità La gente Ha perso la volontà Di combattere Ma ci sono ancora Le guerre Voi siete un'armata militare Quindi La voglia di combattere C'è Ma Bash Non si tratta Di combattere E di essere più forti La cosa più importante E avere un animo intrepido Un animo intrepido Esatto Si tratta di avere il coraggio Di accettare qualsiasi sfida Grazie al coraggio Possiamo avere un futuro migliore Mark Evans Pensi davvero Che la gente abbia coraggio? La gente di quest'epoca Intendo Anche tu hai coraggio Bash Lo sento Ho rifiututo Sulla mia epoca Mark Sul tuo futuro Quello che stavamo cercando Di cambiare Sai Forse alla fine Le cose Non andranno Poi così male Bash Bisnonno Stai bene? Canon Quel tuo dispositivo Si sta attivando Sono davvero orgoglioso Di te Canon E di tutti voi Avete salvato Il futuro Del calcio Datti una pacca Sulla spalla Ragazzo Ora però È giunto il momento Di tornare Nella tua epoca Con tutto quello Che è successo Abbiamo nuove Innumerevoli Possibilità Di ricerca Ho molte cose Da chiederti Professor Killard Mi spiace Ma ho intenzione Di rimanere Qui ancora un po' Che cosa? Ma abbiamo Tanto di cui parlare Il motivo È che voglio Giocare a calcio Con il mio bisnonno Giusto Canon Anch'io voglio Giocare con te Dai andiamo Beh Che posso dirti La passione per il calcio Ti scorre nelle vene E non sarò io A fermarti Molto bene Divertiti allora Sì Grazie Professor Killard Hai sentito Bisnonno? Rimarrò qua ancora un po' Ci divertiremo un sacco Yuppie Wow Questi sono gli allogiti Di Nazima Japan Vero? Ho sempre desiderato Visitarli Contento lui Non riesco ancora a credere Che lui venga dal futuro Invece io gli credo Fido di lui Perché ama il calcio Ma ci siamo appena stati Nei futuro Quelli che amano il calcio Non mentono mai E quindi Moggi non mentiva Quando faceva calcio Scommesse No Ok Quello è un altro Argomento Beh c'è solo modo Per sapere Se Canon Dice la verità O no E quale sarebbe Non dirmi Che è quello Che penso io Semplice Non dobbiamo Fare altro Che vivere Fino alla nascita Di Canon Più o meno È questo Quello che pensavo Anch'io Hai ragione Sono alquanto sicuro Che Mark Vivrà a lungo E che non smetterà Mai di essere Allegro E ottimista Credo che tu Abbia ragione Willy Mark Non cambierà mai Grazie a tutti Perché ci ringrazi Mark? Eh Piuttosto dovrei essere io A ringraziare voi Perché 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 sì La cosa brutta Che mi dispiace Veramente ora È che Mark potrebbe anche Non incontrare mai Suo nipote Nel senso che Questo Questo Inazuma Potrebbe non accadere mai Perché Comunque sia Ora abbiamo Ares Inazuma Eleven È stato cancellato Inazuma Eleven 2 e 3 Gli alieni Non esistono Esistono però Comunque sia i ragazzi Dell'Orfanotrofio Che sono anche loro Forti C'è Aiden C'è tutto quanto Il mondo di Inazuma Eleven È stato completamente Riscritto Solo fino alla Zeus Ci sono state Diciamo La storia canonica Inazuma Eleven 2 e 3 Non esiste Per i giapponesi Ora È tutto È sempre Inazuma Eleven Ma un mondo Parallelo In realtà È sempre Inazuma Eleven Che è stato Riscritto Perché Si sono accorti Che faceva Un po' Era un po' Una stupidaggine Ecco Diciamola così Gli alieni Idemoni Gli angeli La gente dal futuro Dal passato Il militare Per carità Sono tutte quante Bellissime memorie Però Inazuma Eleven Sta prendendo Una strada Più Veritiera Tra 10 miliardi Di virgolette Perché non è che possiamo fare Le tecniche speciali Che vediamo lì Alcune sono Sono fattibili Ma Tipo cartellino rosso Subito Però Inazuma Eleven Ogre Finisce qui Ci ho messo davvero Tantissimo tempo A portarlo Un po' Perché non avevo voglia Di giocare In Inazuma Eleven Io Volevo un attimo Allentare la presa Un po' Perché Non mi andava Di finire la storia Veramente Non avevo proprio voglia Di giocare In generale Ma ora Ho aggiustato un po' Di cose Quindi sono pronto A tornare più carico Che mai Bene Per questo video è tutto Kuge Come sempre Vi ringrazio per averlo seguito Vi ricordo come sempre Che in descrizione Trovate i link Per Twitter e Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Domani Con un nuovo video Bye bye